Fasce boscate di specie autoctone come la quercia, l'acero campestre e il carpino bianco saranno poste in armonia, come precisa il dirigente Andrea Azzoni, con arbusti come il biancospino, il ligustro e il nocciolo. Si aggiusterà poi, lungo la strada d'accesso, un filare di pioppi neri. Stiamo parlando di una discarica di scorie ed acciaieria, ma al trionfo di alberi e di verde, con cinque anni di attecchimento e manutenzione garantiti dopo la posa, arriverà solo alla fine del ripristino ambientale e dopo che la grande massa di rifiuti sarà completata e anche ampliata. A Crotta Dadda, infatti, la società che gestisce la discarica, che ospita Montagnoli di Scorie e dell'acciaieria Arvedi, ha ottenuto dall'amministrazione provinciale l'autorizzazione all'ingrandimento e all'ampliamento poco prima di Ferragosto, il giorno 12. Il culmine dei rifiuti arriverà non a 53 metri e mezzo sul livello del mare, bensì a 55,5. In località Cascina Moncucco, quindi, l'impianto raggiungerà una grandezza di oltre mezzo milione di metri cubi, 533 mila per l'esattezza, con un peso complessivo dei rifiuti di 969 mila tonnellate. Certo, le prescrizioni parlano anche di umidificazione e pulizia dei piazzali, di interventi mitigazioni delle polveri, perché queste non si diffondano per la campagna. Intorno alla discarica, infatti, non sorgono che campi coltivati e il canale navigabile, oltre ad una cave esaurita. D'ora in poi viaggeranno da Cremona, a Crotta, altri 98 mila metri cubi di scorie, ovvero ben 176 mila e 400 tonnellate di rifiuti inerti, trasporti che saranno effettuati dai camion per 14 mesi. Ogni giorno la località Moncucco riceverà 605 tonnellate di inerti. Il gestore dovrà versare anche una garanzia di 294 mila euro all'amministrazione provinciale.